Ci siamo, ci siamo con il secondo contributo di questo lunedì 20 novembre, vi ho augurato stamattina nel video di stamane un buon inizio settimana, lo ribadisco anche in questo secondo video di giornata. Partiamo però subito con le notizie, senza girarci troppo intorno, senza parlare di altro, andiamo dritti al punto, dritti al sodo perché sapete stamattina è uscita una foto di Rafa Leao, ve la faccio anche vedere, una foto di Rafa Leao seduto su un lettino medico dove sta lavorando per recuperare dalla lesione al bicipite femorale, una lesione di primo grado, una lesione che è arrivata con la partita contro il Lecce, in quella gara lì dopo 10 minuti Leao ha alzato la mano, si è fermato ed è uscito dal campo per un problema al bicipite femorale. Da quel momento lì è partito il countdown, è partito il conto alla rovescia di quando Leao poteva e potrebbe tornare in campo. C'è stato subito detto che la lesione muscolare di Rafa Leao era di lieve entità, una lesione di primo grado non troppo grave e questo ovviamente ha portato un po' di speranza nel cuore dei tifosi rossoneri, di Stefano Pioli e di tutto l'ambiente milanista perché Leao è il giocatore più forte della squadra del Milan e quindi il giocatore più rappresentativo. È partito il countdown non per la gara contro la Fiorentina perché lì si sapeva che Leao l'avrebbe saltata ma per la gara contro il Borussia Dortmund, per l'importanza di questa sfida, per l'importanza di questa gara. Ebbene, Leao però, come ha mostrato anche stamattina con questa foto sul lettino medico dove sta facendo terapia e riabilitazione, massaggi e tutto quello che serve per recuperare da una lesione al bicipite femorale, Leao purtroppo non dovrebbe farcela, purtroppo Leao al 90% non ci sarà contro il Borussia Dortmund. È una notizia difficile da digerire perché c'erano ancora delle speranze, oddio le speranze ci sono ancora perché finché non c'è l'ufficialità, tutti sperano nel miracolo, nella ripresa miracolosa di Rafa Leao, si può sempre sperare perché la speranza è ultima a morire, però Leao quasi sicuramente non ci sarà contro il Borussia Dortmund. È veramente, veramente difficile la presenza di Rafa Leao in Champions League contro il Borussia, ma per il semplice fatto che serve qualche giorno in più per recuperare. Soprattutto se poi pensiamo che dalla partita con il Borussia in poi, o meglio con la Fiorentina in poi, si gioca davvero tantissimo ogni tre giorni, non ci saranno più soste fino a marzo, sarà un continuo martellamento di partite e Leao se salta una partita, anzi due o tre partite è un problema, ma se salta un mese di partite è un problema più grave, nel senso che non si vuole accelerare la tempistica per il ritorno in campo di Rafa Leao e questo poi potrebbe magari permettere delle ricadute, quando ci sono le ricadute è ancora peggio. Quindi diciamo che al 90-95% Leao non ce la fa a recuperare col Borussia Dortmund, sarà davvero davvero complicato, difficile, difficilissimo vedere Rafa in campo contro il Borussia. È vero c'è ancora quella piccola speranza, quella speranza minuscola di vederlo nei convocati, però ci aggrappiamo a quella. Lo dico davvero con tanta difficoltà, perché senza Leao il Miana perde tanto e quella gara di Champions contro il Borussia è una gara troppo importante, non si può sbagliare. C'è in ballo la qualificazione agli ottavi, c'è in ballo un numero anche elevato di soldi che il Miana potrebbe ottenere o potrebbe perdere in caso di non qualificazione agli ottavi. A livello economico sarebbe comunque una mazzata importante per il club, perché andare agli ottavi ti permetterebbe di avere due partite in più, due incassi in più da botteghino, tutto quello che c'è attorno alle partite belle di Champions affascinanti degli ottavi. Ballano anche i vari introiti per le qualificazioni agli step successivi della Champions League. Quindi è fondamentale per il Mian andare avanti in Champions, ma senza il suo giocatore più importante diventa più difficile, più dura. Ora, la squadra sulle spalle se la deve caricare Giroud, che ovviamente non ci sarà con la Fiorentina, neanche col Frosinone per squalifica, ma in Champions ci sarà. La squadra sulle spalle se la deve caricare Tevernandez, Mian un po' i leader di questa squadra, ma anche i nuovi, per esempio Pulisic, per esempio Love2Chic. Ecco, Love2Chic è un giocatore che è completamente recuperato da quando il Mian comincerà ad allenarsi nuovamente, quindi domani pomeriggio al più tardi da mercoledì dovrebbe tornare in gruppo insieme a Pulisic, insieme a Kier, insieme a Calabria. Comunque sono quattro recuperi importanti. È vero, Leao non c'è, o non ci sarà al 90%, però se recupera Love2Chic, se recupera Calabria, se recupera Kier, per dare anche un po' una mano in difesa, e recupera Pulisic, secondo me sono quattro rientri fondamentali e con la Fiorentina comunque il Mian si presenta quasi al completo, il problema è lì davanti. Non c'è Leao e non c'è Giroud. Il Mian ha questo problema di infortuni che sta falcidiando la rosa, sta sgretolando la rosa. Ragazzi, quando si parla di problemi di infortuni, la fortuna c'entra fino ad un certo punto, perché poi basta vedere anche le statistiche. C'è una statistica molto curiosa, un articolo della BBC riporta gli infortuni stagionali delle squadre di Premier League. Le squadre che hanno avuto più infortuni fino ad ora sono il Manchester United e il Newcastle, entrambi a quota 14 infortuni. È curioso come il Milan in Italia batta enormemente questi numeri, con preoccupante facilità, perché sono infatti 24 gli infortuni totali per i rossoneri, di cui 16 muscolari. Vogliamo togliere il resto degli infortuni traumatici? Molto spesso non dipende dal Milan. Se Pellegrino gioca al San Paolo, o scusate, al Maradona, allo stadio di Napoli e mette il piede in una buca e si frattura la caviglia, lì purtroppo la preparazione atletica, per esempio, può contarci poco. Escludiamo quegli infortuni lì. Quindi da 24 scendiamo a 16. Ma comunque 16 infortuni muscolari al Milan vuol dire avere una media molto più alta rispetto a tutti gli altri club in Italia, ma a questo punto anche in Europa. Perché molto spesso si dice che in Premier si gioca di più rispetto ad altre leghe, di più rispetto alla Francia, all'Italia, alla Germania e alla Spagna. E quindi gli infortuni sono più alti. Ma il Milan abbatte anche quegli infortuni lì. E quindi vuol dire che c'è davvero un problema. Ora, tutti parlano di concause, ci sono problemi legati al recupero di alcuni giocatori, ai campi di Milanello, però è evidente che la preparazione fa la differenza. Il metodo di allenamento al centro sportivo rosso-nero fa la differenza da questo punto di vista. E il Milan è campione di infortuni, in questo caso, non solo in questa stagione, ma anche in quelle passate. Quindi, se Pioli è il responsabile dello staff tecnico, anche lui è il responsabile degli infortuni. Perché c'è poco da fare. Lo staff tecnico lavora in stretta collaborazione con l'allenatore. È proprio una questione di responsabilità. Non vogliamo essere duri nei confronti dell'allenatore rosso-nero, ma se sei a capo di uno staff tecnico, dove sotto di te ci sono persone che lavorano in simbiosi con te, sei tu il responsabile di tutto quello che avviene. C'è poco da fare. È così. Quindi, ragazzi, purtroppo per Leao difficilmente, davvero molto molto difficile la sua presenza in campo contro il Borussia, vuol dire che il Milan dovrà fare di necessità virtù e provare a sfruttare le altre risorse in squadra. Grazie a tutti. Se vi va mettete like, attivate la campanella, ma soprattutto iscrivetevi e grazie ancora di tutto. Ciao!